Salve, buonasera a tutti, volevamo dedicare questa bella vittoria al nostro team Revolution che ci ha supportato fino adesso, ci ha aiutato, ci ha organizzato tutto, ci è stato vicini in tutto e per tutto, io sono Rosario Tavella, loro sono i miei amici, Riccardo Carrà, Angelo Di Vito, io personalmente volevo dedicare questa vittoria alla mia famiglia Miriana, Gianluca e Luigino che ancora deve nascere, adesso passo la parola a Riccardo Carrà e dopo ad Angelo Di Vito. Ecco a te Riccardo. Niente, ringrazio anche io tutti quanti per questa bellissima esperienza vissuta con tantissimi amici di mare, è una bellissima giornata che non doveva esserlo per via del maltempo che si prospettava e nulla, siamo contentissimi e felici di questo primo posto e speriamo bene per le prossime gare in futuro. Come dicevano i miei compagni, volevo ringraziare il team Revolution, anche organizzatore di questo splendido evento, sperando comunque che ci siano altre occasioni per poter, diciamo, gareggiare e niente, sono molto contento per questo primo posto, siamo molto contenti per questo primo posto e speriamo in altre gare, diciamo, di fare dei buoni piazzamenti in altre gare. Un ringraziamento speciale anche a Mauro e Silvana di Seagang. Certo, Seagang che ci sopportano sempre. Un saluto a tutti, grazie. Grazie a tutti.